Via libera dalla regione siciliana al progetto per la costruzione del gasdotto sottomarino Melita Transgas Pipeline tra la Sicilia e Malta. L'opera, finalizzata all'esportazione di gas dalla rete nazionale italiana, è lunga complessivamente 159 chilometri e si compone di quattro sezioni principali. Una prima onshore a terra in Sicilia, lunga 7 chilometri dal terminale di Gela in località Piana del Signore all'interno del territorio gelese fino alla costa. Prevista anche la realizzazione di una seconda sezione offshore a mare dalla costa fino al limite delle acque territoriali italiane lunga circa 57 chilometri, poi di una terza in mare lunga circa 94 chilometri dal limite delle acque italiane fino alla penisola di Delinara lungo la costa nord-occidentale di Malta. Verrà realizzata anche un'ultima sezione a terra lunga circa 700 metri sul territorio maltese fino al terminale di Malta. Il presidente della regione Renato Schifani ha sottolineato l'importanza e la strategicità di un'opera del genere che darà la possibilità alla Sicilia di ricoprire un ruolo di piattaforma energetica e logistica.